abbiate mai bisogno nella vita potervi essere d'aiuto a qualsiasi contesto mi fa rino perché mentre fai questi complimenti andrà a fare già il green screen come fosse un po rovinato, un momento cuorecini, un po rovinato ti ringrazio per le belle parole ti ringrazio è la verità, è la realtà di ciò che penso oh, oh